Sono, appunto, si annunciano da soli, loro sono i Whipping Smile, sono di chiusi, suonano tutti insieme da un annetto, sono compagni di classe, hanno 16 anni, sono giovanissimi. E Giovanni, cosa ci farete a sentire? Ora, Confortably Numb, Dipping Floyd. Aspetta, non so se si è sentito, ridirlo. Confortably Numb, Dipping Floyd. Dipping Floyd, partiamo proprio così, subito in maniera molto soft, benissimo. Ok, allora regia è tutto pronto, ascoltiamo i Whipping Smile, prego ragazzi. Just not if you can hear me, is there anyone at home? Come on, now, I hear feelings out. I can't ease your pain, and got your no-feeds again. Relax, I need some information first. Just the basic facts, can you show me where it hurts? There is the pain, there is the pain, you are receding. At this the sheep, it's my god, they rise up. You're a holy coming true in ways. You're a little mood, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like you were to lose. And I got the feeling once again, I can't explain. You will not understand, this is not how I am. And I have become comfortable enough. And I have become comfortable enough. Okay, just a little, like, there'll be no more. Oh, but you may be the little sick. Can you stand up, but you believe it's working good. And if you're going to the show, come on, it's time to go. There is no pain You are receding At the instant She's not going to rise You're a holy coming True ways You're miserable But I can't hear what you say When I was a child I cut off an easy place I saw the corner of my eye I turned to look But it was gone I cannot put my finger on it now The sight has grown The dream is gone And I Have you gone Completely now And I can't hear what you say I can't hear what you say Facciamolo forte questo applauso, riproviamo, visto che abbiamo diversa gente in studio che sono venuti a seguire questi ragazzi giovanissimi, Weppin Smile. Rifacciamo l'applauso, proviamo, più forte, più caro rosso. Sono bravissimi, davvero, non so se da casa siete riusciti a sentire tutto bene, noi da qua davvero sì, quindi dal vivo funzionano, ve lo dico, poi da casa me lo direte voi dopo. Complimenti ragazzi, avete rotto il ghiaccio, che siete già pronti per un secondo brano? Già che siete in posizione, pensateci. Io intanto vi faccio il punto della situazione e chiedo dalla regia.